buongiorno ragazze buongiorno a tutte e a tutti nuovo video vlog di domenica come state spero bene allora questo video vlog per farvi un po di compagnia non so quanto sarà lungo ma spero che vi possa intrattenere lo stesso lo dico già dall'inizio se questo video vlog vi piace mettete un bel like un commento qua sotto scusate le unghie ma vabbè un commento qua sotto iscrivetevi e attivate la campanella per non perdere i prossimi video aggiornamento proprio qua sotto si allora spusate le unghie un po disastrate vero ma appena posso o stamattina o di pomeriggio me le smalto tolgo lo smalto e me le metto a posto non prometto nulla ma almeno penso di farcela a mettermela a posto non faccio semi permanente perché non sono un estetista e non sono neanche una professionista però ci tengo a tenermi bella curata e ordinata allora ragazzi io adesso devo fare il letto non so quanto ci metterò ma penso di velocizzare le parti dove faccio il letto perché poi faccio altre cose ovvero devo sistemare una parte di là ovvero da questa parte no non si vede vabbè ve la faccio vedere un altro momento ovvero devo sistemare di là ovvero di qua da questa parte ovvero voi non vedete ma vi dico che c'è un casino boia quindi devo sistemare il letto lo stesso quindi nulla a dopo poi vi faccio vedere come devo sistemare il letto è tutto una strazio infatti vedete come il mio letto è un disastro ci devo mettere questa era la spesa che ho fatto oggi no ieri ma ho preso anche dei viveri da mangiare ovvero ho preso anche da mangiare e nel mezzo al mangiare ho preso anche questi due scorte dei dentifrici un dentifricio due bottiglie di collettoria e più un saponetto per lavarmi lavarmi basta altro nulla lì ci sono le scorte di nuovo il video sulle mie scorte beauty e niente vabbè ve lo farò a finestra aperta per così non penso che si veda granché bene quindi nulla ci sono un sacco di casino e devo sistemare un po tutto perché ho già spolverato tutto quindi devo solamente rimettere a posto e basta allora qui devo sistemare ovviamente questa parte qui su devo mettere tutte le mie scorte beauty e poi in un altro video a parte mi diventa troppo lungo vi farò vedere insomma tutto il resto facile da fare ovvero cosa devo sistemare cosa ho nelle mie scorte beauty e come e cosa uso per curare le persone tutto lì basta quali sono le mie le mie preferenze di tutto lì per adesso sistema un po' e facendo con lo sistemato e poi chiacchieriamo un po' va bene adoro tu buona visione allora ecco qua dunque quello che dovevo sistemare l'ho sistemato ragazze ho sistemato persino il letto e nulla questo è tutto quello che dovevo fare l'ho fatto ovvero ho sistemato che c'erano tutte le mie palettine perché era un caos totale poi ho sistemato poi c'erano le veline quelle oddio vedi a fuoco le veline struccante che poi non sono venire struccante ma solo per pulire il naso anche i pennelli io ovviamente le pulisco solamente con questi o col sapone questi quando devo fare fallout che ci sono si vabbè ci siamo capiti per quelli dei fallout quando mi trucco e basta o anche per passare l'eccesso più di dell'ombretto sul pennello e poi basta ragazze il resto già sapete come faccio da questa parte ancora devo ripassare un po' di ordine ma vabbè do ordine ma eccomi qua eccomi qua ora mi trattengo con voi a chiacchierare aspetta la camera il telefonino è mudo che si vede tutto bene allora vi stavo dicendo praticamente che appena finito di mettere tutto a posto dovrei solo un po' spazzare ma il resto lo rimando dopo è vero mai rimandare ma in questo caso io vorrei rimandare perché poi tanto lo faccio lo stesso comunque a prescindere di io questo questo sopracciglio così non mi si può vedere e neanche io mi posso vedere ma me lo faccio piacere allo stesso per il momento tanto poi prima o poi devo andare dall'estitista a darmi una bella rispuntatina a questo cacchio di sopracciglio che è così e come dite voi a volte posso essere orribile anche se non lo sono ma io mi sento orribile con questa sopracciglia vabbè c'è un perdere allora come sto stamattina io sto bene ho dormito una meraviglia quindi mi va tutto bene e a parte gli scherzi ho riposato bene e quindi mi va tutto bene mi ha fatto anche una bella chignon cipolla o come suol dire si chignon e quindi ora sto bene mi ha lavato anche il viso mi ha messo la crema sempre la solita e dopo questo video se ne riesco monto tutto il video e poi ne faccio un altro dove lavo i piatti o dove mi trucco scelgo io se ho un po' di sonno ce l'ho non molto una pena comunque ho già preso caffè, caffè e latte sono a posto non ho mangiato perchè la mattina fame ne ho ma poca e per solo le 11 adesso che ne sono? non ho manco l'orario vabbè se accendo la tv faccio casino quindi no saranno già quasi le 11 se non erro e quindi niente ragazzi io adesso chiudo qua il video se non, se il mio non ha già lavato i piatti li lavo io e ci vediamo in un altro momento che dirvi io non so se lavare i piatti adesso o lavarli dopo non importa basta che ne lavo e ci vediamo dopo a presto ciao mettete un bel like di supporto un commento e fatemi sapere appunto se vi iscriverete al mio canale e attiverete la campanella ciao a presto un bacio buona domenica ciao a presto